100 esperti provenienti da 28 paesi dell'Unione Europea, questi i numeri dell'appuntamento internazionale di due giorni della Commissione Civex del Comitato delle Regioni in ambito europeo. È stato il presidente del GECT Tirolo Alto Adige Trentino, Luis Donovalder, a fare gli onori di casa in occasione dell'inaugurazione dei lavori. La governance multilivello nella pratica regionale e locale, approcci politici decentrati nell'anno europeo dei cittadini. Questo è il tema centrale del seminario. È stato ribadito che in un'epoca caratterizzata dalla sempre più presente globalizzazione, i cittadini chiedono con maggiore forza di essere coinvolti nei processi decisionali. Il contatto diretto con i cittadini a tutti i livelli, dai comuni all'Unione Europea, ha un'importanza fondamentale per il successo di qualsiasi politica. Intanto abbiamo parlato parecchio di questo e questa volta abbiamo una seduta qui a Bolzano perché proprio qui abbiamo fatto la sperimentazione cosa vuol dire far partecipare la gente allo sviluppo economico e culturale. Qui abbiamo tre gruppi linguistici, abbiamo poi la collaborazione transfrontaliera e per questo diamo un esempio e anche per quanto riguarda le associazioni culturali, sociali, cioè volontariato. Anche qui abbiamo in una provincia con 116 comuni, oltre 3.300 associazioni del volontariato, allora vuol dire che qui la partecipazione e coinvolgimento della popolazione c'è e questo vogliamo far presente a tutti coloro che vengono da tutta Europa. È stato più volte ribadito che l'Euregio rappresenti una sorta di regione modello, una regione esemplare dove vengono vissute quotidianamente le opportunità e le sfide della collaborazione transfrontaliera, dove è stato sviluppato in maniera tangibile un forte senso di appartenenza all'Unione Europea. Il gruppo europeo di cooperazione territoriale è un'istituzione transfrontaliera dell'Unione Europea, è stato istituito nel 2006 sotto la presidenza austriaca e permette una stretta collaborazione oltre le frontiere. Il grande vantaggio sta nel fatto che possono collaborare comuni e regioni. In Tirolo sono il Lantirolo, la provincia autonoma di Bolzano e quella di Trento. Già negli anni passati abbiamo fatto ottime esperienze. Quello che dobbiamo fare ancora è invece rendere noto alla popolazione che questa collaborazione comporta un valore aggiunto anche per i cittadini. In questo modo si possono far percepire ai singoli i successi dell'Unione Europea. Il gruppo europeo del Tirolo è una cosiddetta best practice per le collaborazioni transfrontaliere perché sono tre regioni con grande competenza legislativa e un grande potenziale di successo nella politica comune. La commissione cittadinanza governance affari istituzionali ed esterna Civex è responsabile del coordinamento del comitato di lavoro delle regioni su questioni che comprendono giustizia e affari interni, i diritti e le libertà fondamentali, la regolamentazione intelligente e la riduzione degli oneri amministrativi. La cittadinanza oltre a questioni più ampie istituzionali quali la governance e la devoluzione. è molto importante discutere questi temi dei diritti dei cittadini delle frontiere intelligenti dello sviluppo dell'Europa e delle regioni con l'obiettivo di fare proposte concrete alla commissione europea e al Parlamento europeo perché questo è il futuro delle persone. I membri del comitato delle regioni sono coloro che più di tutti gli altri rappresentano chi vive nelle singole città e nelle regioni, perciò le loro opinioni e le loro prese di posizione sono molto importanti. Siccome ci sono ancora le frontiere all'interno dell'Unione Europea, noi, almeno fin quando queste frontiere esisteranno, dobbiamo fare di tutto per agevolare la vita delle persone. Nel tardo pomeriggio i delegati Civex sono stati ospiti dell'Euregio, hanno infatti visitato l'Eurac, l'Accademia Europea, considera Bolzano, che accoglie gli uffici del GECT Tirolo Alto Adige Trentino. Con l'occasione è stato illustrato loro l'impegno nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Dopo aver visto da vicino le caratteristiche della struttura di Viedruso, hanno potuto conoscere le peculiarità che fanno dell'Euregio una terra unica. Tutto questo grazie alla mostra fotografica Terra in Montanis. Immagini del noto fotografo Albert Ceolan è raccolta in un libro che, con la forza di mille scatti, racconta la vita della provincia di Bolzano, di quella di Trento e del Tirolo. La prima giornata di lavori si è conclusa con la cena di gala a Casterroncolo, un'occasione in più grazie all'atmosfera di amicizia e convidialità per affrontare con un'ottica diversa i temi principali del seminario. Il coinvolgimento sempre più importante della base in ambito istituzionale, anche nelle decisioni più importanti. Martedì 9 luglio, seconda giornata di lavori, che ha visto la partecipazione dell'europarlamentare Herbert Torfman, dell'esperto di politica europea Heinrich Neisser e del consigliere provinciale Walter Baumgartner. Hanno sottolineato il ruolo centrale dei cittadini e degli enti locali in un'Europa che guarda con entusiasmo alle sfide future. L'esperienza maturata in ambito euregio rappresenta un valore aggiunto da mettere a disposizione dell'intero continente. La giornata di martedì ha visto la partecipazione di un folto pubblico ai seminari organizzati dal GECT in stretta collaborazione con la Civex. Lavori suddivisi in quattro gruppi, nell'ambito dei quali c'è stato uno scambio di esperienze in merito alla multi-level governance e al coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali a livello locale e regionale. Durante il seminario sono stati presi in esame diversi approcci adottati in ambito europeo in materia di politica regionale.